Alcatraz Devo mantenere il controllo Ricevuto Guardia Alfa, fase di pattuglia Conversione gamma iniziata Tutte le stazioni confermino Abbiamo un cane in fuga La squadra di cattura si regga al settore 7G Abbiamo un cane in fuga La squadra di cattura si regga al settore 7G Conversione gamma iniziata Tutte le stazioni confermino La squadra di manutazione si regga nei sotterranei Una cosa in meno di cui preoccuparsi Tutti i capi del team Alfa a rapporto Che spreco di tempo Sono un cecchino Non un ammestratore di cani Li farò vedere io Trattarmi come un idiota Conversione gamma iniziata Tutte le stazioni confermino G pieno Un ammestratore Qui ci appinto Turnare le stazioni confermini Passione gamma iniziata Abbiamo un cane in fuga. La squadra di cattura si regga al settore 7G. La squadra di cattura si regga al settore. La squadra di cattura si regga al settore. La squadra di cattura si regga al settore. Guardia alta, squadra di cattura. La squadra di cattura si regga al settore. 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 Guardia Alfa, fase di pattuglia. Conversione gamma iniziata, tutte le stazioni confermino. Guardia Alfa, fase di pattuglia. 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 Devo muovere le coppie di simboli fino a ottenere una serie combacciante. Bene, almeno ora se dovessi trasformarmi in Hulk, l'intera isola non saprà che sono qui. Non star, sta giocando. Occupati di Bettina. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Abbiamo un intruso sul posto. Mantenete le attuali pattuglie e segnalate qualsiasi cosa. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Guardia Alfa. Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 E' qui. Prendiamolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' qui. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Coraggio, fai finta che sia un lettino abbrunzante. Ah, non mi sei mai piaciuto. Sono qui! Fermatelo! Questo ti piacerà. Mi fermerò. Non puoi farci. Sei debole come una ragazzezza. Non sai cosa sta facendo. Le mie orecchie! Nocturne! 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 Salutai miei amici! Nocturne! 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 Solo! Guarda questo! Grazie. Il matto avrebbe... Sono stata contaminata. Devo raggiungere la base militare gamma, in fretta. Sono stata infettata dalla tua energia, ora occupati di questo. Grazie. 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 Grazie.